Signori buongiorno, siamo all'interno della vostra bocca, dove germi e batteri possono creare infezioni alla faringe, alla gola e dalle gengive. Per curare infezioni ed irritazioni c'è Yodosan, specialità zambelletti a base di iodio. Poche gocce le combattono e disinfettano tutto il cavo orale. Ecco perché Yodosan, goccia dopo goccia, disinfetta la tua bocca. È un medicinale, usare con cautela. Grazie.